Le novità contenute nella riforma del processo tributario e le prospettive future di applicazione sono stati questi temi al centro del convegno promosso nei giorni scorsi dalla scuola di giurisprudenza di Unicam in collaborazione con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Camerina e Macerata e l'ordine degli avvocati di Macerata. Presente anche l'ex ministro alle finanze Augusto Fantozzi che ha coordinato gli interventi del pomeriggio e tratto poi le conclusioni del convegno. Sono intervenuti in qualità di relatori illustri, esperti e docenti di diversi atenei italiani che hanno contribuito a chiarire alcuni dei nuovi aspetti introdotti con la riforma.